Dalle 13 di questo pomeriggio la Galleria del Monrubi, di Cepo Morelli, è aperta al traffico veicolare, un'opera invocata da abitanti e amministratori della Valle Anzasca all'indomani dell'alluvione dell'ottobre 2000, i cui lavori sono partiti nove anni più tardi con uno stop iniziale di quasi 12 mesi. Otto anni di lavoro, in effetti, 17 anni dopo l'alluvione del 2000, sono tempi davvero troppo lunghi, però è giusto che quest'opera gli venga dato il valore che merita perché è un altro pezzettino importante per consegnare alla Valle Anzasca una transitabilità normale. Non pochi problemi incontrati nella realizzazione dell'opera. Mi oserei di dire di tutti i generi, dalle venute d'acqua che hanno raggiunto portate assolutamente rilevanti, 250 litri d'acqua secondo, siamo passati sotto le fondazioni delle case, a soli 7 metri dalle fondazioni, fortunatamente senza provocare danni. 995 metri di lunghezza costati alle casse della regione 37 milioni di euro, 21 milioni costi vivi per la sola costruzione del manufatto, il resto SCL li ha spesi in progettazioni e consulenze. Un cantiere che ha dato lavoro fino ad un massimo di 40 operai sotto la direzione dell'impresa Cogeis di Quincinetto. Posso raccontare di una regione che ha investito oltre 60 milioni di euro su questa strada, 37 sulla galleria e il resto su soldi che abbiamo dato alla provincia del Vigio perché il diritto alla mobilità e alla sicurezza della mobilità fosse salvaguardato per le comunità della Vallanzasca e per le persone che volgono una vita economica. Sulla sobria cerimonia di questa mattina ha pesato l'assenza del sindaco di Ceppo Morelli, tunnel pericoloso per pedoni e ciclisti ha spiegato in una lettera Livio Tabacchi. Ma in soccorso del primo cittadino di Ceppo Morelli, questa mattina è arrivato il vicepresidente della regione, Aldo Reschini si è detto pronto ad incontrare il primo cittadino di Ceppo Morelli per discutere delle criticità evidenziate a partire dal nodo dello svincolo che dalla provinciale sale verso la strada comunale della piccola frazione di Mondelli. Resta il nodo ciclisti, questione di non poco conto per una valle che ambisce a crescere turisticamente, ma i tecnici sollecitati in materia spiegano. A norma non potrebbero passare, però sicuramente è meglio di prima e sicuramente non farei passare ciclisti e pedoni sotto una frana. In concomitanza con l'apertura della galleria è stato chiuso al traffico il ponte in ferro lungo Lanza, la struttura che ha garantito la viabilità da e verso Macuniaga in questi 17 anni. Nel corso della cerimonia è stato preannunciato che entro fine mese sarà chiusa la partita con Anas prima di fine anno la 659 della Valle Anzasca tornerà ad essere una strada statale, sgravando così le casse provinciali dalla manutenzione dell'arteria.